Ingenti misure di sicurezza al cimitero Traikiroska di Mosca per il funerale del blogger militare russo Vladlin Tatarsky, ucciso il 2 aprile scorso a causa di un'esplosione in un caffè di San Pietroburgo. I media russi hanno riferito che era presente alla cerimonia funebre il fondatore del gruppo Wagner, Prigazin. La 26enne Daria Triepova è stata accusata di terrorismo per l'uccisione dell'uomo, mentre le autorità russe hanno puntato l'indice sull'intelligence ucraina per aver organizzato l'omicidio. Grazie per la visione!